Polk e pettorale numero 6, favorito dai pronostici partiti, si è abbassato il cancelletto di partenza, il primo salto e poi la curva a sinistra, la discesa, un altro salto e poi curva a destra. Polk e Zampieri, pigorini, giretta, vediamo chi è in testa al primo passaggio, Zampieri se non sbaglio, Vipo confermi? Sì, Vipo conferma, Zampieri al comando, siamo sul tratto di sterrato, è la prima manche delle 8 in programma, Post it up, ancora un tratto sterrato, si attraversa l'asfalto e giù, a capofitto, salto, ai ai ai, c'è una caduta, se non sbaglio Zampieri è caduto, Evidentemente ci auguriamo senza conseguenze, ha preso la testa della gara, Polk confermi Vipo dall'arrivo, doppio salto, stanno per arrivare, eccoli sullo stepo al finale, i primi due passano, gli ultimi due vanno a casa, risultato Vipo!